Il leader della Lega di passaggio in città martedì mattina, una passeggiata fino al Cassani Point, il quartier generale elettorale che il sindaco sta già allestendo. A Gallarate arriva Matteo Salvini, a sostenere la corsa del sindaco uscente Andrea Cassani. Il leader della Lega sarà in città martedì mattina, foto, il sindaco Cassani con Salvini e l'assessore Claudia Mazzetti. Salvini arriverà intorno alle 10.30 e si intratterrà a Gallarate, fino alle 11.15. Si muoverà tra Piazzetta Ponti e Via Turati, dove il sindaco Cassani riapre il Cassani Point, il quartier generale della campagna elettorale 2016. Già nel 2016 il leader della Lega, allora a nord, quella del sole delle Alpi, era venuto a Gallarate per sostenere la corsa di Cassani. Indicando il sindaco uscente Guenzani come, uno sfigato, Cassani è in attesa di una riconferma della coalizione, fin qui il centrodestra ha governato, oltre che con la Lega con Fratelli d'Italia, i centristi, noi con l'Italia che anima la lista centrista centro popolare Gallarate, con una parte del mondo di CL e Forza Italia. La conferma ufficiale della candidatura unitaria era attesa per metà giugno, ma il nodo non è ancora sciolto, anche perché va inserito nell'assetto complessivo del centrodestra a livello provinciale, ancora da definire dopo il ritiro della candidatura di Roberto Maroni a Varese. Di su, Salvini aveva già, blindato, Cassani a marzo, parlandone come candidato sindaco naturale. La prossima riunione di coalizione del centrodestra sarà proprio martedì sera, dopo la visita del leader leghista.